benvenuti ad un nuovo episodio di passione auto oggi vi presento per la prima volta l'ultima nata in casa subaru cross track il design esterno è stato totalmente revisitato per esprimere sulla vettura maggior robustezza e solidità la nuova griglia tridimensionale le conferisce un look più aggressivo e moderno vengono enfatizzati i dettagli da crossover come i passaruota e le barre al tetto le dimensioni rimangono pressoché identiche a quelle della vecchia xv tranne per la lunghezza che passa da 4 metri 47 a 4 metri 49 i cerchi sono stati totalmente rivisitati qui li vediamo nella versione premium con un cerchio in lega da 18 con un design ancora più aggressivo anche il design posteriore è stato aggiornato troviamo infatti i gruppi ottici ovviamente a led a forma di c rovesciata il bagagliaio di nuova cross track è molto generoso e una volta abbattuti i sedili possiamo superare i 1.300 litri di capacità gli interni di nuova cross track sono stati studiati per la massima funzionalità e il massimo comfort gusto estetico ricercato design solido e qualità dei materiali superiore il nuovo display da 11,6 pollici touchscreen ridisegna totalmente la console di nuova subaru cross track il nuovo infotainment è semplice e intuitivo ovviamente subaru cross track dispone di sistema bluetooth e di connettività wireless per apple carplay android i già elevati standard di sicurezza subaru sono stati implementati grazie al nuovo e site di ultima generazione resta in variata la proverbiale trazione integrale permanente di subaru con x-modo ma adesso andiamo a provarla la vettura si presenta molto più maneggevole alla guida con una silenziosità decisamente migliorata rispetto alla vecchia subaru xv sul subaru cross track debutta il nuovo motore 2136 cavalli e boxer che dona una stabilità alla vettura impagabile per questo episodio di passione auto è tutto vi aspettiamo negli showroom auto torino per vederla e provarla su strada